Delle quasi 800.000 imprese del commercio e dei servizi di mercato che sono potute ripartire, l'82% ha riaperto l'attività percentuale che scende però al 73% per bar e ristoranti, a conferma delle gravi difficoltà del settore. È quanto emerge da un'indagine di Confomercio in collaborazione con SVG sullo stato di salute delle imprese a due settimane esatte dalla fase 2. Lo studio fotografa una situazione di imprese e attività commerciali più difficile del previsto. Per quasi il 30% delle imprese che hanno riaperto, infatti, rimane un elevato rischio di chiudere definitivamente a causa delle difficili condizioni di mercato, dell'eccesso di tasse e burocrazia e della carenza di liquidità. Se nella prima settimana, infatti, solo il 6% degli intervistati indicava un'elevata probabilità di chiusura dell'azienda, nella seconda ondata di interviste, a fronte di un ragionamento più articolato, il 28% degli intervistati afferma che in assenza di un miglioramento delle attuali condizioni di business, valuterà la definitiva chiusura dell'azienda nei prossimi mesi. A corroborare questa suggestione intervengono i timori che nel prossimo futuro si dovrà comunque richiedere un prestito, non si sarà in grado di pagare i fornitori né di sostenere le spese fisse. Secondo il sondaggio, per molte imprese concentrate in pochi settori, a cominciare dalla filiera turistica, le sfide per la sopravvivenza si combatteranno proprio nei prossimi mesi. Dal report inoltre, oltre la metà delle imprese che hanno riaperto, stimo una perdita di ricavi che va dal 50% fino a oltre il 70%, con un'accentuazione dei giudizi negativi nell'area dei bar e della ristorazione. Per il 40% di questi ultimi, infatti, gli incassi sono stati inferiori al 70%. Tra le misure di sostegno ottenute, infine, l'indagine ConfCommercio rivela che il 44% delle imprese ha beneficiato di indennizi come il bonus di 600 euro, ma è ancora estremamente bassa la quota di chi ha ottenuto prestiti garantiti, l'8% o fruito della cassa integrazione, il 17%. Grazie.